Mai più desdemona è l'incontro che si è svolto ieri nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre e che rientra all'interno degli appuntamenti pensati per la manifestazione quando Giarre sposa l'Amore, organizzata da Alfio Polisano. È stata Marinella Fiume ad occuparsi del lato culturale dell'evento con l'incontro di ieri, cui hanno preso parte diversi relatori, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo. Presente anche Cetti Russo, sorella di Maria Rita Russo, vittima di femminicidio. È interessante che il momento culturale faccia da traino al momento poi ricreativo, imprenditoriale, alla sfilata vera e propria, allo spettacolo vera e propria. Quest'anno abbiamo voluto dare un taglio dal titolo della conferenza Mai più desdemona. Questo richiama immediatamente al femminicidio. Desdemona è il personaggio dell'Otello di Shakespeare che viene ammazzata, la sposa di Otello, il Moro di Venezia, che viene ammazzata, ma è assolutamente innocente, dal marito preso dalla gelosia e soprattutto dalle false dicerie. Allora, che queste spose quest'anno non siano violate, che ci sia un grido da parte di queste donne che sfilano i meravigliosi abiti di Alfio Polisano con un oggetto rosso, credo che sia una cosa di grande impatto sociale. Il sindaco di Giarre, Angelo Danna, ha espresso grande soddisfazione per un evento tutto giarrese che riesce a ripetersi e consolidarsi di anno in anno. L'appuntamento è per domenica 10 settembre.